Toshiki Kiriyama, qual è il concept dell'installazione Neoreal in the Forest? Siamo interrogati a lungo su quello che poteva essere il concept di questa installazione e fondamentalmente era il rapporto che c'è tra l'uomo e la natura e quindi la terra sulla quale lui vive, quindi era questo il concept che vogliono trasmettere, quindi per far sì che l'uomo non dimentichi questo contatto sempre presente, questa simbiosi che ha con la natura sulla terra dove vive e quindi le foreste che sono su di essa. Quali sono le tecnologie utilizzate per creare questa installazione? C'è stato di molto tempo per poter realizzare questa installazione, ha circa 6 mesi di lavoro molto fitto per unire la tecnologia cano come possono essere proiettori o macchine digitali che hanno reso possibili le fotografie, con strutture molto particolari come delle corde di pianoforte in lattice sulle quali vengono proiettate colori, immagini per dare l'effetto statico della natura, quindi quieto, o come siamo qui ora con dei teli di organza sulle quali vengono proiettate appunto sempre immagini cascate di colori per far sì che si renda invece l'aspetto più dinamico della natura. Thank you, grazie. Grazie.